Benvenuti. Oggi si apre un nuovo ciclo del nostro programma Spazio Libero dedicato al mondo dell'associazionismo e del no profit, come ormai già sapete. Oggi vogliamo parlare dei segreti della nostra terra e per questo ci spostiamo in Sardegna, precisamente nella provincia di Nuoro, dove troviamo la risorgiva di Sugologone, perché nelle sue profondità nasconde delle grotte tra le più impenetrabili e segrete d'Italia. Vediamo. Grazie a tutti. Bellissime immagini tratte dal documentario su Sugologone dove la terra si spacca. Un documentario realizzato da ASSO, un'organizzazione no profit specializzata in ricerche archeologiche e speleologiche e speleosubacque. È con noi il direttore generale dell'ASSO, Mario Mazzoli, che saluto e ringrazio per essere qui. Allora Mazzoli ci racconta di Sugologone dove voi dite la terra si spacca, perché poi si spacca la terra lì. Sugologone si trova nel comune di Oliena, nella provincia di Nuoro, in Sardegna, è un monumento naturalistico, è stato sancito così dalla regione Sardegna. Del 1998. Si tratta praticamente di una sorgente carsica nella quale confluiscono diverse vie di acqua sotterranee della zona, che è stata oggetto di alcune immersioni negli anni 50, negli anni 60. Olivier Sler, uno speleologo subacqueo molto bravo, molto competente, anche nostro amico negli anni 90 arrivò a meno 104 metri e noi, esplorandola in passi successivi alcuni anni fa, siamo riusciti a fare una punta fino a meno 135 metri di profondità. La zona presenta molti aspetti anche paesaggistici e naturalistici molto importanti. Innanzitutto la limpidezza delle acque, da che cosa è dovuta? Le acque sono acque sorgive, appunto carsiche, che vengono dalle montagne, quindi filtrate dagli strati superficiali e dagli strati sotterranei. E praticamente pensate che vederla in queste immagini fa pensare a un luogo molto tranquillo, nella media ha una portata di circa 500 litri al secondo, quando è in piena arriva intorno ai 10.000 litri al secondo e quindi romba e mette in cute timore ed ecco perché quando poi è in piena, come vedete da queste immagini, le acque si sporcano, non è più possibile, non solo per la visibilità ma anche per la pressione, poterla penetrare. Naturalmente. Quindi abbiamo detto che il sugo logone è una sorgente importante perché ha una portata edrica media di oltre 500 litri al secondo. Abbiamo detto che nel 1998 è stata istituita a monumento naturale. Che cosa c'è da sapere ancora? Quindi è ora di scendere in profondità. È la fame per questa conoscenza che contraddistingue un po' la nostra attività. Qualcuno ci dice spesso che cosa speri di trovare in una grotta o a 50 o a 100 metri di profondità. Noi quando facciamo questo tipo di operazioni portiamo via non solo delle emozioni ma anche dati idrogeologici, dati topografici. Quindi sapere il bacino idrico, la consistenza del bacino idrico, la portata e la tipologia delle acque aiuta anche a sostenere degli aspetti di carattere ambientale legati per esempio alla carenza di acqua. Nei terreni carsici l'acqua scende nel sottofuolo, la parte superiore in genere è molto brulla e quindi anche lo speleologo subacqueo che non solo si presta per fini di avventura può essere uno strumento utile per la conoscenza scientifica dei luoghi. Allora, di che profondità parliamo e fino a dove si è spinto l'uomo? Diciamo che in mare o nelle acque in genere l'uomo si è spinto anche a profondità superiori. Parliamo oggi con l'utilizzo dei sistemi a circuito chiuso come quelli che vedete nelle immagini. È possibile allungare i tempi di permanenza con una maggiore sicurezza. È ovvio che l'ambiente lo condiziona. Qui in una grotta spingersi a 135 metri è un'operazione di tutto rispetto. In mare puoi raggiungere i 200-220 metri con questo tipo di attrezzatura. In grotta devi superare degli ostacoli. Teniamo presente che immergersi in questi ambienti ti costringe a cambiare l'assetto mentale, le attrezzature, perché devi uscire da dove sei entrato. E questo condiziona tutta la tecnica, tutta la metodica e anche quindi la possibilità di proseguire o in distanza o in profondità. Infatti stiamo notando proprio la difficoltà. Ecco, che cos'è anche al di là del fatto che è importante ovviamente conoscere, perché ovviamente il vostro lavoro fa sì che anche noi si conoscano siti di questo tipo. Ma non è che è anche una sfida la vostra nei confronti dell'ambiente, di queste situazioni così impenetrabili? C'è una componente, chiamiamola, di avventura. Molto rischiosa, molto pericolosa, perché so che sono avvenuti dei decessi. Sì, diciamo che la grotta è un ambiente inusuale, nel quale tu perdi il senso del tempo e dello spazio. C'è forse anche questo che esercita una certa attrazione emotiva. Quindi i primi speleologi sono sempre stati degli avventurosi, poi ci sono andati gli scienziati. È ovvio che in attività come quella della speleologia subacquea la componente rischio è piuttosto elevata. Per questo ci sono una serie di metodiche, di allenamenti, di tecniche. Si lavora di squadra. Se c'è una persona che ha fatto mille metri di prosecuzione e è arrivata a 135 metri, ce ne sono altre 5 che sono arrivate a 100 metri e hanno fatto 800 metri. Quindi si lasciano stradafacendo tutta una serie di contenitori delle miscele respiratorie idonee, perché in caso d'emergenza, quello che ha fatto la punta, la persona possa ritornare indietro e se vedete tutte le bombole appese al subacqueo servono esclusivamente per emergenza. Ecco, qui stiamo vedendo solitamente il sub che conosciamo, così nell'immaginario collettivo, le bombole dovrebbero stare sulla schiena. In realtà qui le vediamo collocate diversamente. Che cosa ha sulla schiena, per esempio, questo sub che stiamo vedendo? Ha un respiratore a circuito chiuso. Vale a dire, grazie all'utilizzo sempre più diffuso di queste tecnologie, un tempo ad appannaggio o dei militari o delle ricerche offshore, è possibile utilizzare queste apparecchiature che in estrema sintesi riciclano la miscela espirata, quindi fissano la nitride carbonica e rilasciano l'ossigeno che non viene consumato all'espirazione e quindi consentono alte profondità, lunghe distanze, lunghe percorrenze. Ovviamente, essendo delle macchine, c'è il rischio che queste vadano in avaria e allora tutte le bombole che noi portiamo dietro o che seminiamo lungo il percorso servono per emergenza. Ecco, quindi la vostra attività richiede coraggio, vabbè, ma sappiamo che questo attiene alla passione, ma anche una conoscenza tecnica notevole. Soprattutto con l'utilizzo di queste apparecchiature, la ricerca che è stata svolta nell'ambito dell'attività subacquea e quindi della fisiologia umana, delle tecniche di prenedazione, aiuta sostanzialmente perché ormai, diciamo, lo speleo sub non è più un solo un avventuroso, è anche uno che pratica con i computer la fisiologia, che capisce quali sono i sistemi di mix delle diverse miscele, non a caso, in questo caso vedete l'attività di preparazione del filtro che ha il compito di fissare l'anidride carbonica espulsa dalla respirazione e di non rimetterla in circolo e anche qui si utilizzano delle miscele che sottraggono ossigeno man mano che si scende e ti lasciano la percentuale di ossigeno utile alla sola sopravvivenza del ciclo metabolico e si riducono le componenti di azoto che ad alte profondità è narcotico, si inserisce l'elio, questo può essere fatto anche con l'utilizzo di bombole, il cosiddetto circuito aperto. Questi apparati consentono una snellezza di queste operazioni e una possibilità di flessibilità che vorrebbe dire portarti dietro 14-15 bombole oltre all'emergenza. Quindi tutte le bombole che si vedono appese sono solo ed esclusivamente in caso di avaria devi avere la bombola con la quantità di miscela respiratoria e con le percentuali dei diversi casi idonei per poterla prendere a certe profondità, arrivare alla profondità successiva, cambiare miscela e così via. È una cosa un po' complicata ma veramente affascinante. Grazie, grazie Mario Mazzoli, ringraziamo l'Asso, ringraziamo anche i nostri telespettatori ai quali ricordo che questa puntata la si può rivedere ogni volta che lo si desideri sul nostro sito internet www.raiparlamento.rai.it e lì si possono anche trovare, quindi sono disponibili le informazioni per poter partecipare a Spazio Libero. Grazie ancora per la vostra attenzione, arrivederci. Grazie a tutti.